Sanità penitenziaria verso l'istituzione di un osservatorio regionale. Eliminazione barriere architettoniche ed edilizia sociale. Iniziato in aula l'esame di due provvedimenti. Epidemia influenzale e ospedali saturi. L'assessore alla sanità ha risposto in aula nell'ambito dei question time. Nuova edizione di Consiglio News. Ben trovati. La situazione complessa nelle carceri piemontesi, in particolare in materia di sanità penitenziaria. Questo è il focus della relazione illustrata nell'aula del Consiglio regionale. Dal documento, oltre all'analisi delle criticità, è emersa la necessità di creare al più presto un osservatorio regionale sul tema. Sovraffollamento, carenza di personale medico e infermieristico, necessità di maggiore assistenza per chi soffre di malattie psichiatriche e psicologiche. Sono alcuni dei nodi evidenziati nella relazione sulla sanità penitenziaria piemontese che è stata illustrata in aula. Il documento è stato redatto dal gruppo di lavoro della Commissione Sanità dopo l'approvazione, nel novembre 2022, della mozione presentata da Domenico Rossi, Partito Democratico, e Sara Zambai, a Lega, per analizzare le condizioni attuali ed elaborare proposte di miglioramento per il sistema sanitario penitenziario, le cui competenze dal 2008 sono in capo alla Regione. La Regione correttamente ha già un tavolo regionale sulla sanità penitenziaria, ma un tavolo tecnico. Quello che invece occorrerebbe è un osservatorio misso tecnico e politico e quindi la possibilità della Giunta e dell'assessore di riferimento di partecipare a un tavolo, di convocare il tavolo per dare direttamente lui degli indirizzi, può aiutare a trovare un approccio e delle soluzioni in più. Potenziare il personale a tutti i livelli, sia per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, direttori, polizia penitenziaria, soprattutto educatori, mediatori culturali, ma anche la parte legata alla sanità, quindi medici e infermieri. Potenziare i servizi come la telemedicina, perché in carcere chiaramente questo potrebbe aiutare. Nel corso del dibattito Francesca Frediani, Unione Popolare, ha sottolineato le difficoltà legate al trasferimento dei detenuti, che devono essere sottoposti a visite specialistiche in sicurezza e suggerito di istituire corsi di specializzazione sulla medicina penitenziaria. Silvana Accossato, liberi uguali verdi, si è soffermata sulla carenza di spazi per la vita in comune. Basterebbero interventi di lieve entità per ampliare la disponibilità dei locali. Silvio Magliano, moderati, ha evidenziato i problemi legati al sovraffollamento e suggerito di seguire l'esempio delle carceri in cui ai detenuti under 25 è data la possibilità di studio o formazione professionale grazie anche al contributo di associazioni del terzo settore. L'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha ringraziato il gruppo di lavoro per aver approfondito con il proprio impegno tematiche già in gran parte note all'assessorato. Mi farò parte diligente di proporre alla Giunta l'istituzione di quel tavolo, di quell'osservatorio, che può essere veramente utile proprio per le criticità che si manifestano, per il disagio per esempio che è stato sotto gli occhi di tutti, il disagio psicologico nelle nostre carceri, ma insomma per riuscire a dare con tutti i mezzi di cui oggi noi siamo a disposizione, quelle risposte adeguate alle persone detenute, ai lavoratori all'interno delle carceri e al personale sanitario che ha l'obbligo e la responsabilità di lavorare nel suo sistema carcerario. Incardinato in aula il disegno di legge e ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, numero 3 norma in materia di edilizia sociale. Il provvedimento illustrato in aula dall'assessore Chiara Caucino riguarda i requisiti di accesso per l'assegnazione di una casa popolare che, modificando la legge 3 del 2010, potrebbero prevedere limiti e premialità in base alla composizione del nucleo familiare, al reddito e alla situazione occupazionale e agli anni di residenza sul territorio piemontese. Nel corso della discussione generale sono intervenuti numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. L'esame del disegno di legge proseguirà nelle prossime sedute. Il Consiglio ha anche avviato l'esame della proposta di legge che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con l'approvazione dei primi due articoli l'Aula ha iniziato l'esame della proposta di legge disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, affirma Walter Marin, Lega, che è anche relatore di maggioranza del provvedimento. Due gli obiettivi della PDL, promuovere e realizzare interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o privati, aperti al pubblico, e l'istituzione del registro regionale telematico dei PEBA, piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, pensato per monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni delle province e della città metropolitana. In particolare, le disposizioni previste dalla proposta, in conformità con la legge nazionale, ha specificato Marin in Aula, si applicheranno agli edifici e ai locali pubblici e di uso pubblico, compresi gli esercizi di ospitalità, alle aree e ai percorsi pedonali urbani, ai mezzi di trasporto pubblico, ai parcheggi, ai parchi e alle altre aree naturali protette. Silvio Magliano, moderati, relatore di opposizione, è intervenuto per sottolineare la necessità di capire quanto prima il criterio di premialità che si vorrà adottare per quei comuni che già si sono adeguati alla normativa nazionale e in quali modalità si potrà imporre ai comuni di adeguarsi. Ospedali saturi a causa del picco influenzale. Qual è la situazione? Questo è il tema dell'interrogazione che il consigliere P.D. Marello ha rivolto all'assessore alla sanità nell'ambito dei question time. Sanità piemontese in tilt per influenza e covid. Quali provvedimenti sono stati presi o si intendono adottare? Questo è il tema dell'interrogazione a risposta immediata che il consigliere Partito Democratico Maurizio Marello ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Cardi nell'ambito dei question time. All'ospedale Mauriziano di Torino, ha sottolineato il consigliere Marello, vi è stata una giornata in cui i pazienti da ricoverare erano 54 a fronte di quattro posti letto disponibili. Situazione simile al pronto soccorso di Cirie con 56 presenti in Dea e barelle terminate. La situazione si sta avviando alla normalità, ha risposto l'assessore Icardi. Da circa due settimane è stato superato l'apice della curva dell'epidemia influenzale che è stata particolarmente aggressiva colpendo un grande numero di persone che si sono aggiunte a quelle interessate dall'infezione covid-19. Per questo sono state adottate misure finalizzate a prevenire le infezioni mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna vaccinale anti-covid, oltre alla vaccinazione contro l'influenza. Per ridurre la pressione sui pronto soccorso e sugli ospedali, ha concluso l'assessore, è stato previsto poi un coordinamento centralizzato dei posti letto da parte del DIRMEI sia negli ospedali, sia nelle strutture private e soprattutto sull'area della città metropolitana. L'Assemblea ha ricordato con un minuto di silenzio Claudio Simonelli, fu consigliere e assessore regionale per tre legislature. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha ricordato in aula l'ex assessore e consigliere regionale Claudio Simonelli, scomparso il 30 agosto 2020 all'età di 85 anni. Coloro che lo hanno conosciuto hanno apprezzato la sua signorità e il suo garbo. La sua ironia e le sue qualità umane e politiche. Originario di Alessandria, avvocato cassazionista Simonelli nel 1970 è stato eletto per la prima volta consigliere regionale nella circoscrizione di Alessandria nella lista del Partito Socialista Italiano ed è stato assessore al bilancio e programmazione e componente delle commissioni commercio, urbanistica e lavoro. Rieletto nel 1975 è stato assessore alla programmazione, finanze e bilancio e componente della commissione bilancio. La terza legislatura regionale lo ha visto nuovamente in giunta come assessore al bilancio, programmazione socio-economica e componente delle commissioni bilancio e urbanistica. L'aula lo ha ricordato osservando un minuto di silenzio. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie!